Un vecchio adagio recita, dimmi con chi ti compagni e ti dirò chi sei. Cioè l'essenza di una persona si vede da chi si sceglie come compagni di strada nella propria vita. Ecco, Matteo Salvini va in Polonia per cercare l'alleanza di Kaczynski nel prossimo Parlamento europeo. Dopo aver dichiarato che Orban e il suo modello è l'Ungheria il paese governato meglio in Europa, un paese dove vengono violate sistematicamente la libertà di stampa, la libertà di associazione delle ONG, da cui è stata cacciata la Central European University che si sta spostando a Vienna per le vessazioni del governo ungherese, ora va in Polonia a cercare alleati. La Polonia è un paese dove il governo sta cercando di mettere sotto controllo il sistema giudiziario, tanto che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è dovuta intervenire e bloccare l'applicazione di una legge polacca che di fatto metteva sotto il controllo dell'esecutivo il sistema giudiziario, in particolare la Corte Suprema. Ecco, cosa ci dice tutto questo di Salvini e della sua politica? Beh, forse che lo Stato di diritto in Italia corre dei rischi, perché se Salvini intende emulare le politiche di Orban e di Kaczynski che stanno mettendo in ginocchio lo Stato di diritto in Ungheria e in Polonia, i tempi per l'Italia rischiano di essere bui.